un percorso ciclo pedonale che attraversasse la città. Siamo qui alla Trinità per la presentazione del progetto che ha presentato appunto il Comune di Quornier con il contributo di Fondazione Coppogna San Paolo e il contributo anche del Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Lara, cosa ci puoi dire di questo progetto che è un progetto molto ampio e importante? Sì, sicuramente è un progetto che ha un ampio respiro. Abbiamo risposto a questo bando della Compagnia di San Paolo che aveva dei paletti ben definiti, quindi ci siamo dedicati appunto a creare un'idea che era un po' un libro dei sogni, un'idea riguardo alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale che collegasse le aree sportive della nostra città. Quindi via Braggio con l'Arcipelago dello Sporto e oltre l'Orco l'area sportiva di Salto. Siamo riusciti ad avere il finanziamento, quindi appunto ci siamo dedicati insieme allo studio di progettazione chiaramente effettuando alcune scelte a portare il livello di progettazione al definitivo e quindi stasera abbiamo potuto presentare questo impegnativo sicuramente progetto ma insomma noi speriamo di riuscire a realizzarlo. Un progetto che è diviso in quattro lotti? Esattamente, i primi tre lotti sono tre lotti relativamente alla pista ciclabile, quindi puramente il percorso ciclo pedonale. Abbiamo scelto dei percorsi possibilmente il più fuori possibile dalla viabilità pesante, percorsi anche paesagisticamente gradevoli e l'ultimo lotto invece è quello relativo proprio alla costruzione di questa passerella ciclo pedonale che collegherà di nuovo, una volta realizzata appunto il centro della città con la frazione di Salto. I prossimi punti, i prossimi step di questo progetto? Beh, in questo momento non è un progetto finanziato, siamo arrivati al definitivo, ci sarà il passaggio e ci saranno vari passaggi autorizzativi una volta ricevuto comunque il finanziamento per i lavori perché adesso il prossimo step è trovare un bando che sia fatto per questo tipo di progetto e quindi parteciparvi sperando insomma soprattutto di vincerlo e quindi da lì partirà una volta acquisito un nuovo contributo o partirà il percorso per la realizzazione di uno o più lotti. PNRR? Eh sì, assolutamente bandi del PNRR perché in questo momento escono e continuano ad uscire questi bandi speriamo, anzi c'è una buona probabilità essendo molti concentrati sulla mobilità sostenibile che esca qualcosa che sia un vestito da calzare su questo progetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.